Come è il vino di Lombardia? E di conseguenza chi l'abbiamo proposto l'ha apprezzato e quindi è un peccato non fare rivalutare tutti questi prodotti, anche se non sono lombardi, però valgono tanto davvero. L'abbiamo scoperto a Vinitaly, siamo andati nello stand del nostro fornitore che è il Telaro di Rocca Monfini e abbiamo assaggiato questo vino, a me è piaciuto molto e ho voluto proporlo. Inizialmente abbiamo preso qualche bottiglia giusto per farlo assaggiare, ai nostri clienti è piaciuto molto e ho detto perché non metterlo in carta e vedo che va e lo apprezzano, chi lo assaggia non lo cambia. La caratteristica del vino si chiama albariletta e prende proprio il nome del vitigno, 80% di un bariletta e il 20% di casa vecchia. Niente, viene affinato non in barrique ma viene macerato per 15 giorni in botte di acciaio dove fa poi la fermentazione per 6 mesi sempre in botte d'acciaio e poi va all'affinamento in bottiglie per 3 mesi.